Eccoli i debiti lasciati dal centro-sinistra a Chieti. Debiti acqua per 7 milioni e mezzo di euro, 740 mila per i rifiuti, 4 e mezzo per il teatro, 15,5 per le cause contro il comune, senza considerare il debito pro capite di ogni cittadino. Cinque grandi cambiali nel manifesto che il gruppo consigliare del Popolo della Libertà farà affiggere per i muri della città, per informare e comunicare. E questa non è stata ira politica. No, non è stata politica perché è la dura realtà. Noi abbiamo deciso come Popolo della Libertà, come gruppo consigliare, come partito, di seguire un percorso, cioè far conoscere i cittadini tutto, come abbiamo detto in conferenza stampa, tutto il travaglio che porta un'amministrazione a poi far nascere un bimbo, che è il bilancio, che serve poi alla nuova vita dell'amministrazione comunale dei cittadini di Chieti. Chieti e i chietini stanno così. Il PDL ribadisce nel manifesto di avere un solo interesse, difendere Chieti. Ma nelle scelte di bilancio è chiaro che da questi presupposti, ereditati dal centro-sinistra... Mettiamo le mani davanti, mettiamo le mani davanti perché quando si parla di economie dobbiamo conoscere quello che abbiamo nella cassa e quello che noi possiamo avere nella cassa e quello che vogliamo spendere rispetto a quello che abbiamo. Sarà un bilancio di rigore, annuncia l'assessore Melideo, ma proiettato nel lungo periodo. Perché? Stiamo puntando molto sulle infrastrutture, stiamo cercando di razionalizzare al massimo l'uso dell'indebitamento che deve essere orientato verso attività di sviluppo certe e quindi cercando anche di essere in grossa competizione attiva con il privato cercare di fare delle attività economiche che sono non di respiro solo comunale ma che devono aprire al mondo economico delle associazioni, delle categorie, degli imprenditori che devono trovare in Chieti una realtà appetibile per poter fare investimento e sviluppo.